Doveva esserci lo sgombero, c'è stata invece un'altra proroga. La famiglia del giovane imprenditore Alessandro Moneti, da nove anni in carrozzina a causa di un grave incidente stradale, è infatti obbligata a lasciare libera la propria dimora. Questa mattina era atteso lo sgombero dal civico 53 di via Persoria a causa di un procedimento di esecuzione immobiliare successivo alla confisca e vendita all'asta della casa assegnata a un nuovo proprietario. Mattinata in cui è stato però bloccato il secondo mandato di sfratto per il mancato intervento della forza pubblica. Dopo ore di colloquio fra le rispettive parti legali la famiglia Moneti ha ottenuto un ulteriore rinvio di altre due settimane. Famiglia che infatti assicura che lascerà la casa ma chiede solo più tempo per organizzarsi. I debiti che la affliggono sono stati generati dai costi della riabilitazione di Alessandro per la quale non si sono appoggiate a nessuna assicurazione in quanto quella famosa mattina di nove anni fa il pirata della strada che causò l'incidente scappò senza lasciare traccia e senza dare l'opportunità al ragazzo di avere il giusto apporto economico. In dato odierna il rilascio non è avvenuto per assenza della forza pubblica. Verrà fissata un'ulteriore data anzi già stata fissata dal delegato a livello custode della procedura un'altra data e in quella situazione poi vedremo. Non sappiamo gli sviluppi non li conosciamo nemmeno noi. Comunque la famiglia Monetti si sta adeguando per reperire una nuova abitazione, una nuova collocazione abitativa ovviamente nel rispetto di quelle che sono le loro esigenze oggettive e pratiche sostanzialmente. Tutto qui. Sono due settimane brevissime per correre per trovare quello che ci serve perché se posso vorrei evitare di andare in appoggio da qualche parte perché altrimenti è più difficile. Se non posso ce l'adattiamo. Due settimane perché di più non riescono a dare per i tempi tecnici. Siamo in attesa comunque della data anche da parte vediamo se possiamo magari intanto noi dobbiamo trovare questa abitazione. Noi ci siamo già attivati per cercare questa abitazione. Non è facile perché dobbiamo trovare un'abitazione che sia giusto come vi ho detto più volte per Alessandro. Ci abbiamo dei contatti e speriamo in settimana di concludere qualcosa di buono perché non vogliamo più ripassare per queste situazioni e soprattutto non vogliamo passare da quelli come ci hanno additato che vogliono approfittare di questa situazione. Abbiamo delle persone anche che ci aiutano, ci hanno sempre sostenuto in questo ultimo periodo anche perché noi non avevamo più le forze neanche per sostenere il percorso di Alessandro perché in nove anni abbiamo finito tutto quello che avevamo. Però detto questo ho una famiglia che mi sta vicino, ho degli amici, delle persone anche che non conoscevamo, che ci siamo conosciuti in questo frangente, che mi stanno aiutando anche economicamente. Quindi siamo fiduciosi di risolverci. Proviamo a vedere se riusciamo in tempi così brevi a liberare la casa, perlomeno a far vedere che abbiamo preso questa casa. Abbiamo provato a contattare la controparte per trovare un punto di incontro. C'era una persona, un nostro amico, disposto a garantirgli anche le spese che stanno sostenendo per il mutuo. per queste cose qui, però la controparte non vuole sentirne. Abbiamo provato a contattarli per trovare un punto di incontro, nel senso che lei dice che ha queste spese per il mutuo che sta pagando, sostenendo. Eramo disposti a dargliele pur che ci dia sto tempo per uscire in maniera più serena. Dall'altra parte non c'è stata risposta. Non hanno voluto, non hanno risposto comunque. Questo è quello che è accaduto. Sono sollevato perché comunque abbiamo un ragazzino a scuola che deve tornare, mia moglie, che la dimettono oggi pomeriggio. Immaginate voi se avessimo dovuto uscire di casa. Oggi cosa sarebbe successo. Per quanto riguarda invece l'altra situazione, per l'articolo che è uscito di Villa Ceccolini, penso che la situazione sia chiara a tutti. Noi eravamo una famiglia che non era ricca ma non ci mancava nulla. Però i terreni, le proprietà che abbiamo, li abbiamo perse tutte. Adesso Ale è solo in possesso di un piccolo pezzamento di terreno che gli hanno donato i miei fratelli per portarli a fare aprire questa azienda agricola. Quindi è tutto lì. Tanti gli attestati di vicinanza alla vicenda della famiglia Moneti, compreso quello di Coldiretti che ha preso parte alle concitate trattative parcheggiando un simbolico trattore davanti all'ingresso. Noi siamo stati a fianco ad Alessandro fin dall'inizio e alla famiglia. Per cui questo trattore è un simbolo di vicinanza alla famiglia stessa anche perché lui è un imprenditore agricolo. La sua attività da poco tempo, da circa un anno, è diventata quella dell'azienda agricola. È un nostro associato e noi come tale gli stiamo vicini e lo stiamo difendendo tra virgolette ma quantomeno gli stiamo dando un appoggio soprattutto morale.